Scintille tra maggioranza e opposizione sul bilancio di previsione 2022 della Regione Abruzzo e sul pluriannale 2022-2024, documenti che sono all'attenzione del Consiglio regionale come di consueto negli ultimi giorni dell'anno solare. Centrosinistra stamani all'attacco della Giunta Marsilio perché il bilancio viene ritenuto illegittimo e con forte disavanzo. Un bilancio illegittimo, manca il piano di rientro, un bilancio che non vede più la possibilità della riduzione delle tasse, viene meno la programmazione e soprattutto la promessa del governo Marsilio e tutto ciò perché hanno prodotto disavanzo in sanità con oltre 100 milioni di euro di mobilità passive e quindi migliaia di abruzzesi che vanno a farsi curare fuori e tutto ciò nonostante le centinaia di milioni di euro aggiuntive che lo Stato ha trasferito proprio per la sanità. Ecco perché contestiamo profondamente questo bilancio di previsione che pure nasceva sotto diversi auspici. Quest'annualità vedeva chiudersi tutto l'ammontare delle cartolarizzazioni grazie al piano di rigore che era stato portato avanti nella scorsa legislatura ebbene degli oltre 41 milioni di euro di risorse in più disponibili per le cartolarizzazioni nulla andrà all'abbattimento delle tasse, nulla andrà per il sociale e per i trasporti e tutto purtroppo sono andate per quanto riguarda le leggi mancia e le leggi omnibus. Non possiamo che essere contrari a questo tipo di bilancio. Non si è fatta attendere la replica del capogruppo di Forza Italia ed ex assessore regionale Mauro Febbo a dell'incredibile e ribatte Febbo quello che oggi il centrosinistra viene a raccontare. Abbiamo detto e ridetto che questo bilancio è provvisorio perché risente e non poteva essere diversamente della sentenza della Corte Costituzionale. Una sentenza che ha delle responsabilità precise e individuate nella posizione di scontro e conflittualità voluta dall'arroganza del duo D'Alfonso Paolucci che ha portato la Corte dei Conti a impugnare il bilancio 2018, unico caso tra le altre quattro regioni nelle stesse condizioni della nostra e che anche loro hanno deciso di spalmare il debito pregresso in 20 anni e non in 10. Abbiamo detto e ridetto che ha aperta una interlocuzione con il massimo organo di controllo per superare le motivazioni che hanno portato alla decisione. Tutto il resto, conclude Febbo, sono le solite litanie e chiacchiere di chi deve nascondere le responsabilità di questa incredibile e imprevista situazione, peraltro arrivata a dieci giorni dall'approvazione dello strumento contabile. Critiche al bilancio sono state mosse anche dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Non si comprende la provenienza delle entrate e soprattutto la spesa che sosterrà la regione Abruzzo. Siamo al buio senza conoscere i capitoli di spesa. La sentenza della Corte Costituzionale, conclude Pettinari, pone in risalto una precisa responsabilità del governo di centrodestra che avrebbe dovuto incrementare gli investimenti.